Da sei anni senza contratto sciopero dei lavoratori del turismo Caso affidamenti diretti e sponsorizzazioni, il centro-destra pesaresi invoca risposte da Ricci Parte lunedì da Villa San Martino il piano straordinario di pulizia delle caditoie di Pesaro Conto alla rovescia per un'edizione capitale della Fiera di San Nicola Da tavuglia in emoto la carica ai piloti italiani per il Gran Premio di Misano Una buona serata telespettatori di Rossini TV e benvenuti ad una nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi venerdì 6 settembre che apriamo occupandoci di un'altra giornata di mobilitazione sindacale Quella avvenuta oggi davanti alla sede pesaresi di Confindustria con lo sciopero dei lavoratori del settore del turismo Vediamo Contratto! 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 Si è tenuta questa mattina la protesta regionale dei lavoratori del settore turistico sotto la sede di Confindustria Pesaro Urbino Allo sciopero hanno aderito i sindacati della CISL, CGL e UIL Il tutto nasce dallo mancato rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori del turismo Che secondo i sindacati rappresenta un danno dal punto di vista economico ed una mancanza di tutela per i lavoratori Il contratto è scaduto da 6 anni, 2 anni di trattative abbiamo rinnovato il contratto in turismo con le varie altre associazioni L'unica che si è alzata da tavola e non ha voluto firmare è stata Confindustria Quindi ad oggi è inammissibile che abbiamo una realtà del turismo dove altre realtà sono stati rinnovati i contratti collettivi con lamenti salariali E solo ai ragazzi del turismo industria non è stato dato nessun aumento, nessun rinnovo sia normativo che economico Questo vuol dire che già negli ultimi 6 anni c'è stata una perdita di inflazione del 17% Quindi vuol dire che già uno stipendio di 6 anni fa aveva un valore, oggi c'è un valore quasi del 20% in meno Il rinnovo contrattuale permette di mantenere in linea a meno con le spese correnti Quindi crea solo povertà non rinnovare il contratto collettivo Oltre al fatto che negli ultimi anni ci sono stati dei fatturati eccellenti nel turismo E quindi è dare uno scaffo proprio ai propri dipendenti Una situazione di crisi che non riguarda solo chi non possiede ad oggi un contratto collettivo Ma che si apre a tutto il settore turistico che i sindacati sostengono sia alimenti su contratti pirati e irregolari Chiedono un arretramento dei diritti e soprattutto un riposizionamento verso un modo di lavorare Che è ormai superato come quello della perenne reperibilità e come quello di un salario Che è rimasto a dei valori che sono quelli di diversi anni fa Le motivazioni che avrebbero spinto Confindustria nel non firmare il contratto collettivo Secondo i sindacati sarebbero dettate da richieste inadatte per i lavoratori del turismo di oggi Molto frammentario, c'è una pirateria di base, praticamente contratti in nero o quantomeno a condizioni irrisorie E quindi è difficile anche fare massa e rappresentarli tutti i lavoratori Ma se c'è qualcuno che ancora ha dei punti fissi per rappresentarli E credo che questi potremmo essere anche noi, tanto meglio, cioè mollare no Da questo sciopero avanzano poi le richieste dei lavoratori del mondo del turismo Che oltre a un contratto collettivo chiedono maggior sicurezza economica e dignità lavorativa Noi chiediamo sicuramente un rinnovo che aspettiamo da sei anni A seguito di una trattativa che vada avanti da due anni E anche un adeguamento rispetto ad altri colleghi come noi del mondo del turismo Che hanno già ricevuto un rinnovo che invece per noi, che siamo nell'ambito di Confindustria, non è arrivato Oltre al rinnovo del contratto chiediamo comunque una stabilità Perché il turismo è sicuramente molto colpito da contratti a termine Contratti stagionali che quindi impediscono anche in un'ottica e una prospettiva di vita Di fare magari progetti, investimenti e anche un adeguamento di stipendio Perché è noto che il settore del turismo è tra quelli meno retribuiti E il tema del turismo intersecato a quello della cultura È stato al centro delle forum nazionali di impresa Cultura Italia di Confcommercio Organizzato questa mattina a Palazzo Montagne Antaldi Quarto forum nazionale di Confcommercio dedicato a imprese e cultura Tantissime le personalità presenti qui al Palazzo Montagne Antaldi di Pesaro Per discutere di tematiche fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio Il tema è affascinante, è un tema che ci prende molto come Confcommercio di Pesaro Rubino Tenendo conto che da anni stiamo spingendo le amministrazioni comunali Anche con il progetto itinerario della bellezza A ipotizzare un diverso modello di sviluppo economico Basato sulla valorizzazione della bellezza La valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente, dei paesaggi La riflessione che si apre oggi con questo convegno va in questa direzione Capire quanto l'economia della bellezza Quindi l'economia culturale in senso lato Può portare per lo sviluppo economico e turistico del territorio La cultura ovviamente non deve essere dipendente del turismo Però devono dialogare, cultura e turismo devono dialogare insieme Rapportarsi perché un evento culturale può avere un impatto economico rilevante Se vengono utilizzati i tempi del turismo Oggi la cultura abbiamo visto che è un valore economico importante Per l'economia marchigiana Tante aziende stanno lavorando nel sistema della cultura E la cultura può essere anche un valore aggiunto Per i nostri giovani per trovare lavoro anche per loro Però ecco non dobbiamo dimenticare che l'impresa Deve essere poi dopo sostenuta, aiutata Facilitata in alcuni percorsi Che penso è proprio a mio giudizio un caso di specie Perché l'idea che è questa che è una città Che appunto conosco bene Della balneazione adriatica come ce ne sono tante Grazie appunto all'Ossini Opera Festival Che è stata un'iniziativa che nasce da un'esigenza non turistica Ma da un'esigenza fortemente culturale È diventata una capitale della musica Che vede l'affollamento di spettatori Che vengono da ogni parte del mondo Al Festival Rossini, al ROF E dalla cultura e del turismo passiamo alla politica Questa mattina conferenza stampa del centrodestra peserese In consiglio comunale che grida lo scandalo amministrativo Per quanto riguarda quanto sta emergendo In merito di affidamenti e sponsorizzazioni Alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare Ecco una serie di domande Dalle quali si invocano risposte dalle sindaco Matteo Ricci Affidamenti e sponsorizzazioni Uno scandalo cittadino senza precedenti Titolo di un manifesto che ha avvolto questa mattina La conferenza convocata dei consiglieri di centrodestra Coinvolti nella commissione di accesso agli atti Per verificare la congruità del sistema di affidamenti diretti Emerso verso le associazioni Opera Maestra e Stella Polare Ai quali si è aggiunto un nuovo filone di sponsorizzazioni Che sollecitano chiarimenti dall'ex sindaco Matteo Ricci A questo grande scandalo Delle 600 mila euro di affidamenti Che sono stati fatti a queste due associazioni gemelle Opportunamente costruite Si aggiunge anche tutto il tema delle sponsorizzazioni Per cui non parliamo di 600 mila euro Ma probabilmente del doppio della cifra in questione Il lavoro che stiamo facendo sta portando alla luce Sicuramente è un metodo fatto di tante ombre Tante ombre Noi stiamo facendo domande per chiarire Per avere chiarezza E a queste domande nessuno sta rispondendo Le responsabilità politiche di questa faccenda sono oggettive E sono in capo al sindaco All'attuale sindaco e al precedente sindaco Perché non può far finta Ricci di non sapere Anzi ancora peggio di cercare di scaricare le responsabilità Sui suoi dirigenti Santini che andava a parlare con i dirigenti Parlava su incarico fiduciario del sindaco Quindi il sindaco non può dirci di non sapere cosa succedeva Queste interferenze politiche sono andate a beneficiare Sia la fase preliminare dell'affidamento E quindi la fase relativa alla scelta dell'operatore Già che l'operatore veniva indicato direttamente Da Massimiliano Santini al dirigente che si limitava a prenderne atto E andava ad efficiare come abbiamo poi saputo dai giornali Anche la verifica sulla congruità della prestazione Già che anche in questo caso la politica andava a interferire Concordando quelle che erano le sovvenzioni Che andavano a favore della prestazione stessa E senza comunicarlo ai dirigenti Che quindi valutavano la congruità della prestazione Senza tener conto delle erogazioni Delle sponsorizzazioni che arrivavano dai privati Noi vogliamo chiarezza su quanto ammontano queste cifre Noi vogliamo sapere chi trattava Se il sindaco o qualcuno per conto del sindaco Queste sponsorizzazioni Noi vogliamo sapere chi sono i dirigenti Che hanno trattato le sponsorizzazioni Visto che fino adesso dal lavoro in commissioni Tutti hanno invece detto di non centrare nulla con le sponsorizzazioni E vogliamo sapere chi ha deciso Che le sponsorizzazioni non dovessero andare a scomputo Dei soldi dati dagli affidamenti diretti Davanti a delle precise responsabilità politiche Noi non vogliamo i silenzi Non vogliamo qualcuno che scappa Noi abbiamo posto un tema Che Ricci deve rispondere a queste domande Perché Ricci all'epoca se si ricorda ancora Era il sindaco di questa città La stessa cosa vale per il sindaco attuale Biancani che cerca di minimizzare Cerca di aumentare la confusione Invece noi abbiamo bisogno di chiarezza Perché l'input della maggioranza Sul sostanzialmente boicottare L'istituzione della commissione di inchiesta Così come adesso in questo momento Addirittura di rallentare i lavori del consiglio Che ancora non è stato convocato Noi chiediamo di rispondere alle tante domande Che stiamo facendo noi e i cittadini E che ancora non hanno risposte Ed essere tirato in neballo dal centro-destra Oltre a Matteo Ricci L'attuale sindaco delle comune di Pesaro Andrea Biancani Che in giornata ha replicato Ai consiglieri del centro-destra Riferendo a come il comune Stia garantendo massima trasparenza E collaborazione Come giusto che sia Stiamo fornendo a tutti gli atti I dati richiesti Nonostante questo incida Sulle attività della macchina organizzativa Per questo Biancani dice Che se sarà avviato un'indagine E a quanto mi risulta Ad oggi nessuno è stato indagato Mi auguro che ciò avvenga in tempi rapidi Un Biancani che aggiunge Sono una persona schietta e sincera Che non ha mai messo il lebavaglio a nessuno Né alla stampa né ai consiglieri Che sanno che la mia porta è sempre aperta E che sono coinvolti in maniera costante Nelle attività dell'amministrazione Né con i cittadini Con cui dialogo ogni volta che posso C'è però bisogno di riappropriarci Di un rapporto di collaborazione Di un confronto serio e sereno Soprattutto tra maggioranza e opposizione Solo così potremo dare le risposte Che i cittadini ci chiedono E per le quali stiamo cercando di lavorare E dalla politica passiamo alla cronaca Perché c'è stato un furto Nella notte all'interno degli spazi Della scuola elementare Dell'istituto comprensivo di Villa San Martino Dove ignoti hanno commesso Un'effrazione all'ingresso della struttura E penetrati all'interno Hanno scassinato un distributore automatico Con relativa sottrazione di contanti Sulle posto carabinieri e polizia Per un reato non nuovo Agli istituti scolastici pesaresi E inizierà lunedì 9 settembre Il piano straordinario di pulizia delle caditoie Su suolo pubblico Annunciato nei giorni scorsi Dalle sindaco Biancani E dall'assessora Mila Dell'Adora Nella prima settimana Marche Multiservizi interverrà Sulle prime 250 unità Comprese nelle quartiere di Villa San Martino Con i primi due giorni Dedicati a Via Togliatti In un calendario Che verrà annunciato Ogni venerdì E cittadini interessati Dalla settimana seguente Con tanto di avvisi Di lasciare libera la sede stradale Il turno di pulizia Verrà svolto dalle 6.30 alle ore 12 Da lunedì al venerdì Oltre alla pulizia delle caditoie Verranno eseguiti sopralluoghi specifici Da parte di Marche Multiservizi Finalizzati all'attivazione Delle servizi di spazzamento stradale Per rimuovere eventuali residui E il lungomare di Pesaro Si prepara all'allestimento Della Fiera San Nicola Un evento iconico Del fine estate pesarese Che come da tradizione Si terrà dalle 10 alle 12 di settembre Anche quest'anno i tre giorni 10, 11 e 12 Si parte dal 10 Perché è San Nicola E quindi una ricorrenza Ed una tradizione Che i pesaresi E tutti i visitatori Hanno ormai ricordato Registriamo più di 150.000 visitatori all'anno Quindi è una conferma Di una tradizione Amata da tutti Un anno particolare Quella della capitale della cultura E quindi anche il gusto In questo caso della cultura Ci sono più di 600 metri quadri Di attività legate al cibo Grazie al lavoro instancabile Della Prologo E anche ovviamente Alla parte enologica Del territorio Quindi una celebrazione Quella della capitale del gusto Che non poteva mancare Nell'anno della capitale della cultura In un anno La capitale della cultura Naturalmente anche la fiera Non poteva essere Uguale agli anni precedenti Per quanto è un format Che si è sempre saputo evolvere In questi anni Grazie anche alla collaborazione Con Pesaro Parcheggi E in particolar modo Avremo una piazza del gusto Diciamo una capitale del gusto Addirittura A partire da Piazzale della libertà E Piazzale d'annunzio Che in questi anni È stata riqualificata Anche in chiave Di spettacoli Come quest'estate Con APA Per l'accoglienza delle famiglie Che ospita Gli spettacoli Quindi un'area spettacoli Vera e propria Che prende corpo Piazzale d'annunzio Che anche quel tipo di conformazione Consente non solo Un allungamento Della fiera E della passeggiata Ma anche I veri e propri contenuti Ulteriori Per passare Una vera giornata intera Alla fiera Dal giro della mattina Allo pomeriggio Per chi può Fino a una serata Da passare In allegria In compagnia Tra gli acquisti Tra le bancareda Per quanto riguarda La viabilità Si concentrerà Ovviamente come sempre Lungo via le Trieste Via le Cesare Battisti E il consiglio Intanto la navetta gratuita Che è possibile prendere Per arrivare alla fiera E usare la bicicletta Ma ci sono poi I tre parcheggi Della Pesaro Parcheggi Che sono quelli di Villa Marina In fondo via le Trieste Gratuito Il parcheggio Il curvone E via Marsala Quindi la viabilità Peraltro Durante la settimana Siamo sicuri Che sarà agevole Per tutti coloro Che vorranno visitare la fiera Nei suoi tre giorni Anche quest'anno Ci siamo apprestate Alla grafica Per la comunicazione Della fiera Centenaria San Nicola Dal 1513 Le proposte Sono state tantissime Come ogni anno Dei miei studenti Ed è da 13 anni Che appunto Proponiamo idee Quindi Ce ne sono state Tante diversificate E la giuria Ha fatto fatica a scegliere Ha scelto quest'opera Perché Ha delle caratteristiche precise Si riferisce a un'opera surrealista A una modalità di rappresentazione Quindi surreale E a posto Un oggetto Al posto di un altro oggetto E quindi spostando il significato Che otticamente appunto Non viene subito all'occhio Ma ci si rende conto Che è decontestualizzata La ragazza Ha utilizzato Tutti i file Da computer Quindi con Utilizzando Photoshop E altri programmi Di paginazione Non c'è stata tanto La mano artistica Ma è un pensiero Artistico Di elaborazione Con riferimenti A quelli che sono Le correnti artistiche Del contemporaneo Ed ora cambiamo argomento E ci spostiamo A Tavuglia Dove ieri sera Centinaia di appassionati Di motori Hanno accolto I piloti italiani Delle moto mondiale Che parteciperanno All'imminente Gran premio di Misano In occasione Della serata inaugurale Di Tavuglia In moto Un bagno di folla Internazionale Con amanti Delle due ruote Provenienti Da diverse parti D'Europa Riflettori Della prima serata Puntati sulle tre volte Campione del mondo Francesco Bagnaia Celestino Vietti Franco Morbidelli Luca Marini Fabio Di Gian Antonio Marco Bezzecchi Andrea Migno I piloti Incalzati Dalle commentatorie Di Sky Mauro Sanchini Hanno regalato Al loro pubblico Tanti aneddoti Insieme alle loro Sensazioni Sulle gran premio In arrivo Bagnaia Dopo l'infortunio Ha confermato Che stringere i denti Per onorare Il gran premio Di casa Parleremo In maniera Più approfondita Di Tavuglia In moto Nello speciale Realizzato da Rossini TV Che entra in onda Martedì 10 settembre Alle ore 21.40 È tutto pronto Per il ventunesimo Giro Delle Monte Chiaro Gara podistica Di 9 km Inserita nel circuito Correre per correre Si tratta di una gara Che da 21 anni Raccoglie sistematicamente 200 partecipanti In un prezioso Connubio Con la festa Delle volontariato Coordinata Dall'Auser Pesor Urbino La corsa Che ha un percorso Dedicato anche ai bambini Partirà domenica 8 settembre Alle ore 9 Dall'impianto Polivalente Di Borgo Santa Maria Risalendo poi Le foglie Per la strada Delle Monte Chiaro Fino alle bastione Di Pozzo Alto E sempre domenica Alle ore 18 Nelle cortile Di Palazzo Montagna Antalde A Pesor Si tratterà Il primo incontro Delle Festival Off Che precede L'apertura Dell'edizione 2024 Del Festival Del giornalismo Culturale Di Urbino Un'edizione Che presenta Un'importante Impronta Legata alle donne Come dimostra Il titolo Protagoniste Lo sguardo femminile Nel giornalismo Culturale Agli interventi Iniziali di Piero Dorfles Lella Mazzoli Del presidente Della Fondazione Cassa di Risparmio Di Pesaro Marco Cangiotti Seguiranno Le tour e performance Curate Delle attrici Paola Galassi E Romina Antonelli Con la direzione Artistica Di Giampiero Solari E ad una settimana Dalla sua inaugurazione Kagami Il progetto inedito Di Pesaro 2024 Che vede protagonista Ruichi Sakamoto Registra un bilancio Assolutamente positivo Con 2774 Biglietti venduti E 1459 persone Che hanno già assistito Al concerto L'evento Continuerà Fino alle 12 settembre Con tre repliche giornaliere Già sold out Tutte quelle Delle ore 20 Biglietti ancora disponibili Per quelle delle 17 E delle 23 E da domani Una nuova biblioteca Arricchierà Il patrimonio culturale Della città di Pesaro Si tratta Della biblioteca teatrale Della piccola ribalta Il 7 punto Inauguriamo La nostra biblioteca Che è una biblioteca Specialistica Specializzata Per testi teatrali Libri teatrali Il 7 alle ore 17.30 Presso la nostra compagnia Appunto Inauguriamo questa biblioteca Biblioteca teatrale Della piccola ribalta Un patrimonio Che parte Praticamente Dalla nascita Della nostra associazione Che appunto Risale nel 1950 Che appunto Contiene 1700 volumi teatrali Oltre poi Altri 2000 Volumi di riviste teatrali Insomma Di ogni genere Dal sipario A ridotto Ci sarà poi Il nostro vicepresidente Mario Cipollini Che è un po' La memoria storica Che quindi Potrà raccontare Un po' La storia Come è nata Questa nostra biblioteca Quali sono le donazioni Vorrei ricordare uno tra tutti Annibale Ninchi Perché noi abbiamo avuto Tra i soci Anche Anche Diciamo La famiglia Ninchi E Quanti Quante dediche Quante Quanto Lavoro C'è stato Anche in precedenza Per cercare di organizzare Questo materiale Che era veramente Notevole Insomma In termini qualitativi E quantitativi Il punto di svolta È stato dato Dall'acquisizione Di un fondo Il fondo Posseduto Appartenuto A Nivio Sanchini Una figura Un po' Dimenticata Oggi Insomma Che noi cerchiamo Vorremmo poi Valorizzare Nuovamente Un attore Regista Pesarese Che ha portato Il teatro In giro per il mondo Insomma Insieme Al suo gruppo Attoriale Che stiamo Recuperando E con il quale Faremo poi Una serata Dedicata proprio Alla sua figura E al suo teatro E con il suo fondo Di 450 volumi Ci siamo resi conto Insomma Che avevamo La quantità giusta Per poter procedere E diventare Una vera biblioteca pubblica Ci tengo a dire Una biblioteca Che sarà Aperta al pubblico Che è già visibile Nel catalogo online Della regione Marco Quindi si può Accedere Per il momento Solo Alla visione Alla consultazione Perché chiaramente Essendo un'associazione Dobbiamo ancora organizzare Il discorso prestiti Anche se Il document delivery Per esempio Si potrebbe sempre fare E Insomma E questo è un punto D'inizio Di un Speriamo Insomma Di una Di un'avventura Che possa durare Nel tempo E domani E domenica Serrungarina Torna ad ospitare La festa Della Pera Angelica Un'eccellenza unica Nel suo genere È in programma Sabato 7 E domenica 8 settembre La 27esima edizione Della festa Della Pera Angelica Di Serrungarina Organizzata Dalla Proloco Con il patrocinio Del comune Di Coglie Al Metauro La festa Presentata Nella sede Di Confcommercio Marche Nord Animerà il borgo medievale Per celebrare La Pera Angelica Riconosciuta Dal 2001 Dalla regione Marche Come prodotto Agroalimentare Tradizionale Un ricco programma Fra espositori Del succoso frutto Concerti Enogastronomia E la pedalata Della Pera Angelica La caratteristica Della Pera di Serrungarina È che Io dico sempre Che è la Pera Che ha le ali Quindi È la Pera Che mangiano gli angeli Si fa per dire Si fa scherza Ma La caratteristica Della Pera di Serrungarina È che Come 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 si dice Non sono uguali Cioè Lei e te copri Le Pere Delle altre parti Sembrano fatte Con il coppiatore Le nostre pere Una Pera uguale all'altra Non la trovi E a seconda Nel ramo Dove nasce A seconda Del terreno Che trova vicino Lei Ha la sua conformità E quindi Si distingue Anche per quello Perché se tu Guardi Nel nostro cesto Lì Una col gambo corto Una col gambo lungo Un uguale Non ne trovi E in più La bontà invece È eccellente In tutte Visto il grande successo Di anno scorso Replichiamo E abbiamo Anzi Abbiamo aggiunto Una settimana Che precede Il 7 e l'8 Che precede L'evento Della festa In cui Tutte le associazioni Con la quale C'è una sinergia Crescendo Nel tempo Dicevo Tutte le associazioni Fanno Diciamo Organizzano Ciò che compete loro Ad esempio La bocciofila Un torno di bocce La società sportiva Un torno di calcio Abbiamo una associazione Culturale Che organizza La presentazione Di libri Tutto dedicato A questo Fantastico frutto Che è La perangelica Quest'anno Fortunatamente Nuovi produttori Sono entrati A far parte Della associazione E questo È buono I primi anni Abbiamo incentivato Con un contributo Diciamo I produttori Per la piantumazione Di nuove piante Quest'anno Sicuramente Adesso vedremo Di acquisire Di acquistare Una macchina bollinatrice Cioè che Diciamo così Identifichi Il nostro prodotto Però Poi abbiamo Tutto Una Uno scenario Che riguarda La nutriceutica Cioè La farmaceutica Abbinata Alla nutrizione Quindi perché Questo prodotto Essendo molto ricco Di polifenoli Si presta Molto A fare Diciamo così Degli integratori Alimentari Che avrebbero Benefici Per il cuore E per le alte vie Quindi Però per fare questo Bisogna proteggere Il prodotto E la festa Dello sport Di Pesaro Challenge Per il secondo Anno consecutivo Si allunga Nelle territorie Di Vallefoglia Con la due giorni Delle Vallefoglia Challenge Torna la seconda edizione Del Vallefoglia Challenge Che quest'anno Si terrà il 7 E 8 settembre Nell'area antistante Il Palla di Onigi Di Montecchio E nelle altre strutture Sportive della città Per l'occasione Alle 17 di sabato Sarà presente anche L'oro olimpico Di Parigi 2024 Della nazionale Di pallavolo Gaia Giovannini Un'occasione dunque Non solo per vivere Lo sport a 360 gradi Ma anche per celebrare Una campionessa di casa Vedete Per riposarci Raddoppiamo Le iniziative Questa è un due giorni Dello sport Che caratterizza Un po' la città Di Vallefoglia Che è questo binomio Fra le tante Attrezzature sportive Le tante discipline sportive Le tante società sportive E il binomio Con le scuole Con i ragazzi Le famiglie Per noi È veramente importante E poi Ci sarà la premiazione Di Gaia Giovannini Il sabato alle 17 Che ha portato Vallefoglia Negli scenari internazionali Grazie alle sessioni sportive In questo caso Anche Megabox Che ovviamente Ha contribuito A battere gli americani Che insomma Di questi tempi È un onore Per l'Italia E lì Fu citata Anche Vallefoglia Quindi Premieremo Ci sarà Un messaggio Del presidente Del CONI Che Manderemo In onda Proprio Nella inaugurazione E soprattutto Le società sportive Del posto E soprattutto Un messaggio Rivolto ai giovani Un invito Anche a quelli Che magari Non fanno Attività sportiva Nelle nuove generazioni Ad incontrarci Nelle società sportive E anche negli impianti sportivi Numerose Le società sportive Vallefoglia Sarà una vetrina Per tutte loro E sarà una vetrina Anche per conoscere Discipline Attività Non presenti nel territorio Magari cosiddette Minore Ma sono Ugualmente importanti Ci sarà questo momento Inaugurale Alle 17 Di sabato 7 Con Il corpo bandistico Di Vallefoglia Che è sempre Molto Scenografico E benvenuto E poi ci sarà Questa premiazione Questo riconoscimento A Gaia Giovannini Siamo molto felici Di aver avuto Questo videomessaggio Del presidente Malagò Ci sarà un attimo Si riviveranno In qualche minuto Insomma L'atleta in campo Con le premiazioni La medaglia L'inno Insomma Saranno momenti importanti Dopodiché Dalle 10 di mattina Alle 10 di sera Del sabato e domenica Ci sarà spazio In un'area Amplia Quella dove si svolge Il mercato Montecchio Insomma A fianco Agli impianti sportivi Più importanti Del territorio C'è lo spazio Per tante discipline sportive Quindi invitiamo I ragazzi Le famiglie A partecipare E a visitare Questa due giorni Importante Di sport Per il territorio E con quest'ultima notizia Dedicata alle Volefoglia Challenge Termina qua Questa edizione Di Rossini News Prima però Di lasciarvi Le previsioni Delle meteo Vi ricordo La programmazione In onda Sulle canali 80 A cominciare subito Dopo questa edizione Del nostro telegiornale Alle ore 20 Con la natura Della cultura magazine Parleremo di Tavuglia Vale oro Con il progetto 50 per 50 Di Pesaro 2024 E quindi Dedicato a Tavuglia Che la prossima settimana Sarà capitale Per appunto Sette giorni Vi ricordo La nostra prima serata Con estate capitale Il nostro programma Dedicato all'estate Di Pesaro 2024 Alle ore 21.20 In questa dodicesima puntata La nostra Nicoletta Tagliabracci Ci porterà Alla scoperta Di Villa Caprile E alle 21.40 Potremo rivedere Lo speciale tv Che lo scorso Fine settimana Abbiamo realizzato A Piobbico In occasione Della sagra nazionale Delle Polentone Alla Carbonara E vi ricordo Lo spazio informativo Di domani mattina Ora 7.20 In diretta La nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini Nuova sigla Anche da questa settimana Domani mattina A farvi compagnia E a leggere I quotidiani locali Ci sarà Il nostro Antonio Astuti Ed è davvero tutto Vi ringrazio Per essere stati In nostra compagnia Vi auguro Un buon Proseguimento Di serata Grazie a tutti